Temperature da record in Sicilia dove si intensificano gli effetti dell'ondata di calore proveniente dall'Africa, previsti picchi tra i 42 e i 43 gradi. La protezione civile ieri ha emesso un nuovo avviso con bollino rosso legato al rischio incendi per quasi tutta l'isola. Il presidente della regione Nello Musumece è stato in visita nei comuni maggiormente devastati dagli incendi nei giorni scorsi. A bordo di un elicottero della Polizia di Stato il governatore ha sorvolato le aree delle Madonie e dei Nebrodi, interessate dai roghi per rendersi conto direttamente dei danni causati dalle fiamme. Abbiamo già dichiarato lo stato di crisi e domani delibereremo la richiesta dello stato di emergenza nazionale, ha dichiarato Musumeci. Speriamo che da Roma arrivino segnali positivi. Proprio nei giorni scorsi infatti il governo siciliano nel corso di una seduta straordinaria della Giunta ha deliberato lo stato di crisi e di emergenza per sei mesi a causa dei gravi incendi verificatisi già dalla fine di luglio e del permanente rischio per le prossime settimane dovuto all'eccezionale situazione meteoclimatica presente nell'isola. La Sicilia brucia ormai da giorni. Nella Grigientino i maggiori danni attualmente sono stati registrati nella zona di Raffadali e a Cammarata. In quest'ultimo caso non sono state le alte temperature da Re Origine alle Fiamme ma un piromane. Il responsabile, un settantenne del posto, è stato arrestato dai carabinieri. Il timore infatti è che oltre al caldo, dietro agli incendi ci sia anche, se non soprattutto, la mano dell'uomo. Grazie a tutti.